O è un boom quello di CRO, nessuno se l'aspettava così forte, sfido chi di voi ha visto l'ultimo mio video sulle top 3 cripto, anzi ne parlavo già da più di un mese di CRO, 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 ad aspettarsi un boom del genere. Non si ferma più la cripto di cripto.com dove sta andando a quel livello di resistenza arrivata anche su Bitcoin perché è arrivata a un livello di resistenza stra importante, lo vedremo oggi, facciamo un video focus su tutta quella che è la situazione di CRO per quanto riguarda analisi ciclica, tutto quello che è l'analisi fondamentale perché ci serve anche un po' di analisi fondamentale di CRO per capire che cosa potrebbe succedere nel prossimo futuro perché siamo in totale price discovery, poi andiamo a vedere dove siamo in questo momento perché siamo sul livello da attenzionare in termini di resistenza e poi come andare a comportarsi se siete entrati come me su questo investimento, che cosa bisogna fare? Due modi diversi, trader verso investitori. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi facciamo un video focalizzato sulla cripto CRO proprio perché ha avuto un balzo incredibile, forse un qualcosa come il 300% nell'arco di pochissimo tempo, anzi ve lo dico già da subito, vediamo un po' che ha fatto. Allora, il 570% da settembre, quindi in due mesi circa dal 20 settembre, quasi il 6x ragazzi, allora questa è roba solo da cripto e quando ci sono queste cose ne andiamo a vedere, anche perché non è del tutto strana questo tipo di atteggiamento perché tutto è scaturito dal lancio della DeFi, loro piattaforma DeFi Kronos, che sta ovviamente facendo pompare il token perché alla fine poi è quello che conta. Quindi oggi andiamo a vedere tutta questa roba qui, ma prima devo darvi una news. Black Friday Trading On ragazzi, va bene, allora sì, siamo anche in Black Friday, quindi un minuto per descrivervi questa offerta su tutti i corsi Trading On perché molti di voi mi mandano le mail e io sono una settiana che blocco tutti e gli dico aspetta mercoledì perché c'è un'offerta imperdibile, allora vi mostro subito velocemente tutti i corsi Trading On sono in offerta fino alla Lunedì, quindi il Cyber Monday, sono in offerta del meno 20%. Non abbiamo mai fatto un'offerta del genere perché ve lo dico già da subito, i corsi in questione non torneranno più a questi prezzi perché per il prossimo anno sono previste delle questioni differenti, diciamo dei cambi radicali di questo percorso di formazione che ho fatto ormai or solo nel 2018 ragazzi, quindi ci sono un restyling totale, l'aggiunta di nuovi moduli dedicate alle cripto, gli esercizi per i trader, insomma mille cose sulla quale si sta lavorando in squadra e quindi questa è l'ultima volta che si avranno questo tipo di prezzi. Allora abbiamo detto vabbè chiudiamo l'anno, in bellezza Black Friday meno 20% ragazzi è uno scontone gigantesco, basta inserire questo coupon dal link che vi lascio in descrizione in questo video, quindi non l'ho chiamato Black Moon 20 ragazzi, perché? Black Moon perché Moon, ok, to the moon con Bitcoin, speriamo nei prossimi giorni ci sono ancora delle riflessioni come vi avevo detto lunedì da fare e poi Black perché siamo nel Black Friday ragazzi, allora percorso Trading On sia il corso Basic sia il corso Pro sono entrambi a sconto del 20%, sto anche registrando un nuovo modulo dedicato unicamente a chi sta facendo i primi investimenti sulle criptovalute, quindi a chi ha il portafoglio cripto, come va gettito, se siete all'inizio che cosa dovete metterci dentro, secondo me quali sono le tecniche migliori per chi si avvicina e vuole creare un portafoglio, quindi non proprio trader che vogliono speculare in maniera più attiva ma un modulo dedicato proprio a chi sta cercando di crearsi un portafoglio. Credo che sarà terminato entro fine mese di novembre, scusate dicembre, questo modulo lo aggiungerò in più, anche credo entro dicembre aggiungeremo il corso Starter, famoso corso Starter che da qualche mese ragazzi non sono riuscito a registrare, ve lo dico facile perché volevo trovare la chiave, non l'ho fatto per via di altro e siccome è un corso gratuito volevo dare a tutti quello che effettivamente necessitavano, quindi Black Friday Trading Gone ragazzi si chiude inesorabilmente il 29 novembre alle 23.59, approfittate tutti di questo sconto, non faccio mai queste call to action però in questo caso ho visto il prezzaccio, ci sta, va bene ok allora fine della questione promo passiamo al nostro video ragazzi ok allora ecco il grafico di Crypto.com CRO, andiamo a vedere che cosa sta facendo, un po' ha rifiatato poi da questa mattina che abbiamo iniziato diciamo a fare un bel pump, allora vedete intanto già il 586% dal 20 di 29 quindi da insomma due mesi fa, in due mesi circa da questo minimo del 29 di settembre, andiamo a vedere intanto l'analisi ciclica poi faremo dei fondamentali, un confronto fondamentale tra CRO e Binance perché vi faccio vedere dei dati in altura fondamentale e poi andiamo a vedere un po' la resistenza contro Bitcoin e poi i miei consigli finali. Allora da un punto di vista ciclico è difficile andare a delineare un ciclo per quanto riguarda CRO perché è una crypto molto giovane quindi in sostanza quello che stiamo andando a fare è andare un po' a sforzare la mano alla teoria ciclica perché ha soltanto pochi anni di vita al 2019 quindi non abbiamo grandi 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 dati. Allora tecnicamente basandoci anche sull'attività delle crypto in generale dovremmo andare a fissare qui l'inizio di un nuovo ciclo, questo sembra come uno shadow, io lo metto qui ragazzi per far coincidere un po' un tempo, un timing che sia un po' accettabile per questo tipo di strutture cioè circa il classico annuale di Bitcoin, 400 giorni quindi da 3 a 65 che è l'annuale proprio solare in poi. Allora dove siamo in questo momento? Siamo nella seconda parte di questo ciclo annuale iniziato sicuramente a dicembre del 2020 insieme a tutte le altre crypto quindi anche CRO contro dollari in questo caso la stiamo analizzando perché stiamo facendo analisi ciclica ragazzi quindi noi non siamo contro Bitcoin, ha iniziato anche in questo caso questa fase di ciclo, probabilmente siamo nella fase di topping del ciclo annuale di Crypto.com poi ci sarà ovviamente la ripresa, magari bisognerà vedere ancora però c'è tempo ragazzi perché questo topping tecnicamente ha tempo di avvenire anche nei prossimi due mesi uno o due mesi quindi fino a gennaio diciamo fino alla fine di dicembre poi da qui magari si potrebbe iniziare ad assistere a un po' di respiro perciò la fase di rialzo probabilmente non è terminata qui, anzi secondo me non lo è perché bisognerà assistere a delle cose ci sono dei livelli che sono i classici livelli riflessivi tipo un euro, scusate un dollaro, giusto per dirvelo che sicuramente andranno a impattare sulla Crypto in questione, quando ci avviciniamo a questi livelli di natura riflessiva probabilmente qualcuno inizia a vendere perché gli gira un po' così però da un punto di vista di struttura il trend di CRO è saldamente al rialzo, non ci sono segnali di inversione di nessun tipo e soprattutto l'aria di possibile up ancora e può durare fino appunto come vi dicevo a questa zona qui che va dalla metà di dicembre più o meno alla metà di gennaio quindi ovviamente non aria di prezzo ragazzi qui sto disegnando aria di temporale, anzi facciamo così, ve la metto così in alto così non vi potete confondere non è un'aria di prezzo è un'aria di timing, va bene, è difficile magari vederlo arrivare qui senza un po' di respiro probabilmente respirerà però guardate che parabola esponenziale che ha avuto questa Cryptovaluta da un punto di vista ciclico quindi io direi di fermarci qui perché già stiamo forzando la mano andando ai cicli superiori non avrebbe molto senso secondo me perché la Crypto è troppo giovane quindi andiamo adesso a fare la questione di analisi fondamentale quindi paragoniamo quella che è la struttura, la market cap e i progetti che sono dietro le spalle di Crypto.com a Binance che è il suo competitor principale ovviamente per la similitudine dei servizi che offrono ok quando analizzo dei progetti che sono equiparabili tra di loro faccio un po' un'analisi di natura settoriale e soprattutto metto a paragone quelle che sono le caratteristiche di un progetto in questo caso Binance come exchange con quello che è un altro progetto in questo caso Crypto.com come exchange però più focalizzato sulla questione carte e la questione DeFi in sostanza adesso il lancio di Kronos per quanto riguarda Crypto.com è molto vicino a quello che ha fatto un annetto fa Binance con il lancio della sua BSC quindi tutto quello che è stato l'app di Binance Binance probabilmente sarà anche lo stesso hype che avremo su Crypto.com ma anche perché Crypto.com è comunque un'azienda molto grossa, molto forte ha fatto diverse partnership, diverse questioni anche legate all'ultima che ha comprato non so uno stadio dei Lakers se non sbaglio è una cosa spaventosa allora ovviamente insomma è lo stesso tipo di atteggiamento da una parte abbiamo Binance più forte dal punto di vista di exchange sicuramente con una piattaforma estremamente più voluminosa quindi a più volumi è il primo exchange del mondo dall'altra invece abbiamo poi delle latenze per quanto riguarda magari la questione carta anche la piattaforma mobile sicuramente quella di Binance è più dedita al trading è meno dedita alla flessibilità come quella invece dell'app di Crypto.com mentre Crypto.com è un po' più semplice come interfaccia nella parte iniziale mentre l'exchange è un po' più banale rispetto a quello di Binance quindi sono un po' equilibrati in questo modo ovviamente DeFi di BSC è di gran lunga in questo momento molto più importante di quella della Cronos di Crypto.com ma perché quella è nata insomma da poco quindi bisogna vedere un po' come andrà la questione se non che sia nel caso di Crypto.com sia nel caso di Binance l'immissione, cioè la creazione della propria piattaforma di DeFi ha dato un boost al proprio token in quanto il token è sottostante una serie di rendimenti il farming è tutto quello che è la questione quindi avendo trovato quella che secondo me è il leader a cui possiamo paragonare Crypto.com cioè Binance in questo caso andiamo a fare un paragone tra i due in termini di analisi dei fondamentali e cioè quello a cui mi riferisco sono in pratica la capitalizzazione è il riferimento circolante come si dice anzi scusate ragazzi ma cambio l'italiano io proprio non lo sopporto che cosa ho messo? Ho messo russo adesso va bene no? ok allora cambio e metterò English perché non riesco a leggere l'italiano quindi allora la supply totale è la fully curated market cap che è quella che utilizzo sempre quando faccio questo tipo di analisi per paragonare i progetti l'abbiamo sia su Binance che su Crypto.com allora vediamo la differenza di market cap per capire e per rispondere a una domanda il potenziale di crescita che CRO potrebbe avere rispetto al suo competitor principale che comunque ha più esperienza quindi si ipotizza che CRO non riesca diciamo a raggiungere il livello di Binance questo ovviamente nell'immediato poi dopo potrebbe succedere qualsiasi cosa però noi ipotizziamo che il livello di capitale circolante di capitalizzazione di Binance sia un livello massimo quindi questa è un'ipotesi di natura un po' personale quindi chiaramente non è poi bisogna vedere dove arriverà però al momento abbiamo una netta differenza cioè quella che i 30 miliardi 28 miliardi e 4 per quanto riguarda la market cap diluita di Crypto.com io ho fatto uno zoom così lo vedete meglio 28 e 4 contro un 97 e 5 di Binance a questo punto risulta abbastanza chiaro siccome stiamo facendo conteggi in natura qualitativa non quantitativa che manca un X3 300% dagli attuali prezzi Crypto.com ci arriverà nel prossimo anno perché questa è la scommessa nei prossimi mesi addirittura può arrivare a triplicare il valore attuale ragazzi è possibile se noi prendiamo a riferimento un paragone che porterebbe Crypto.com al pari di Binance ma possiamo anche ragionare in termini prudenziali come dovrebbe fare un investitore e dire benissimo a me il paragone diciamo l'unione quindi la vicinanza a Binance mi sembra eccessiva per non dire il Flipping che poi potrebbe salire come l'attesa famosa di ETH che dovrebbe flippare BTC un giorno magari ma probabilmente allora se CRO flipperà Binance potrebbe addirittura salire sopra questi livelli però noi diciamo che siamo prudenziali diciamo benissimo siamo a 30 miliardi di CAP può arrivare a 60 sì ci può arrivare perché perché Binance è molto più sopra è quasi a 100 miliardi quindi nulla dieta c'è di arrivarci se è solo 6 i mercati e le cripto correranno ancora ricordatevi che la struttura del mercato è il macro ambiente dove noi ci troviamo è sempre la regola principale nel momento in cui andate a fare queste valutazioni le facciamo con l'idea che tutto resti così com'è se invece Bitcoin scende iniziamo un mercato orso questa cosa va rivista chiaramente però se siamo nell'attuale situazione è possibile assistere almeno a un X1 cioè un raddoppio da parte di CRO questa cosa non è fuori dalle righe ragazzi perché? perché se gli va bene la Kronos DeFi e quant'altro se gli funziona bene loro sono molto bravi anche nel marketing sapete come agiscono e sistemano un po' le varie cose nulla vieta al CRO di arrivare a un livello di 60 miliardi di market cap non c'è niente di strano non c'è niente di male non c'è niente di anomalo non sarebbe neanche da considerare una pomo eccessiva e quant'altro quindi tutto lineare in base a questo tipo di analisi fondamentale non abbiamo ottenuto già un primo target tecnicamente potremmo addirittura arrivare nei prossimi mesi anche a un X2 quindi un raddoppio da parte della cripto di CRO adesso vi faccio vedere una chicca vi ho messo un spread questo è un grafico costruito tra CRO contro Binance questo è carinissimo sinceramente non ho visto se esiste credo che esista però io non l'ho costruito da solo perché mi piace fare queste cose quindi se non sapete come si fa basta aggiungere questo tipo di struttura su TradingView ragazzi e andare a inserire i simboli con semplicemente la sbarra qui di diviso e quindi TradingView vi costruirà l'indice questo vi fa anche capire come questa è stata la fase in cui Binance ha lanciato la sua BSC vedete che cosa è successo quando Binance ha lanciato la sua BSC c'è stato un crollo di CRO contro Binance quindi Binance era molto più forte adesso CRO prova a recuperare riportandosi sui livelli pre-lancio BSC pre-lancio BSC stava qui ragazzi e quindi anche da questo noi possiamo ottenere un buon livello insomma di target non dico che dobbiamo arrivare magari in questi livelli che sarebbe penso un rialzo veramente eccessivo perché da qui a qui sarebbe il 350% diciamo qui avremmo la parità con BNB come era precedentemente ma anche volendo arrivare a questi livelli di resistenza come vi dicevo anche questo grafico vedete da qui a qui ci fa un più 100% quindi anche da un grafico spread tra BNB e Crypto.com otteniamo che la possibilità di arrivare a fare un raddoppio è fattibile non dico che poi ci riesca perché qui stiamo parlando di previsioni chiaramente bisogna sempre seguire il trend trend is your friend non vi dimenticate questo mantra che vi ho insegnato ovviamente da anni e anni ormai sul canale però questa cosa è possibile detto questo andiamo a vedere dove siamo ora che livello di resistenza ha toccato e vedremo BTC e poi come agire se siete trader come agire se invece siete investitori su questa cripto eccoci davanti al grafico di Bitcoin dove siamo ora per quanto riguarda Crypto.com io seguo sempre questo grafico abbiamo avuto diversi ingressi per quanto riguarda questa cripto nell'arco degli ultimi mesi il primo vi avevo indicato al break di questo livello addirittura fatto su questa candelona gigantesca e poi il secondo qualche giorno fa proprio qui indicato nei miei shorts ragazzi a proposito degli shorts sto facendo questi shorts su YouTube e stanno andando alla grandissima vi ho indicato anche le game coin l'altro giorno stanno facendo i botti quindi fate attenzione agli shorts sono 30 secondi di ghiotti di operazioni di video ovviamente faccio il possibile ma in 30 secondi non è che posso dirvi vita morte e miracoli però sono sicuramente delle grandi dritte quindi teneteli d'occhio gli shorts sul canale allora dove siamo? siamo arrivati al primo livello dell'esistenza è stato breccato adesso siamo qui cioè il livello di massimo storico di Crypto.com contro Bitcoin e badate bene che questa fase di riflessione di oggi è proprio dovuta al fatto che la Crypto ha raggiunto in pratica esattamente il suo livello allora in questo caso dovremmo poi andare un po' a capire se riuscirà a bercarlo oppure semplicemente fa magari una giornata di riflessione leggera perché qui c'è una bomba ragazzi guardate quante candele verdi cioè guardate quante candele verdi contro Bitcoin quindi non contro dollaro contro Bitcoin 220% addirittura dal 12 di novembre quindi una settimana fa in pratica ragazzi è successo un lira di Dio quindi un quasi due settimane fa a dire la verità va bene quindi da un punto di vista di breve potremmo assistere nel brevissimo periodo ad una fase di riposo proprio perché ha toccato verso Bitcoin questo livello di resistenza soprattutto perché il grafico è palesemente ad ascensore ma secondo me la questione non è finita qui non è finita qui ragazzi perché io credo che questo livello di resistenza sia poco incisivo al momento in quanto soltanto in questo periodo ha avuto un po' di difficoltà la CRO a salire sopra Bitcoin è vero che è durato parecchio da luglio ad ottobre ma è anche vero che questa è una fase iniziale dove poi c'è stato il famoso dump quello probabilmente del cash out insomma per sviluppo del progetto quindi qui diciamo la considererei tanta e non quanto perché ancora era un po' immatura questa questa cripto quindi ci sta questa fase nel momento in cui siamo in questo punto probabilmente il mercato potrebbe riposare un po' ma poi riprendere la sua corsa perché? perché al momento non ci sono dati negativi e questo pump è DeFi driven quindi è guidato da DeFi dal progetto Cronos se quello si sviluppa e cresce questo trend è sostenibile ragazzi la questione poi è questa qui quindi al di là di riposti magari momentanei potremmo continuare ad assistere a questa cosa e addirittura come vi ho spiegato prima almeno un X1 cioè uno per uno quindi raddoppio o per duro sapete che non lo so allora un raddoppio della della cripto allora andiamo poi a ragionare invece su quello che è la questione legata a chi è trader e chi è investitore allora chi è trader che deve fare chi è trader ragazzi sta speculando quindi utilizzate un time frame daily utilizzate eventualmente un time frame inferiore se volete chiudere a posizioni decenti mettete un trailing stop e basta perché dovete seguire il trend con questa cripto trend is your friend e non vi fate buttare fuori da un trend molto buono semplicemente per l'ingordigia di prendere il take profit dovete mettere con i vostri bias cognitivi stringervi la mano e fare un patto allora io seguo il trend sapendo che non prenderò mai il massimo quindi perderò dal massimo però fino a quando dura questo carro io ci sto sopra questo è il ragionamento del trader che segue il trend poi se siete dei trader che avete grande paura di perdere una parte del profitto e quindi di non vendere i massimi sicuramente sarete già usciti da questo trend e vi state mangiando le mani questa è la questione quindi le strategie sono sempre con la coperta corta quindi se noi cerchiamo di prendere più torta possibile sappiamo che una parte di quel massimo non la prenderemo mai se invece noi cerchiamo di prendere il massimo usciamo e poi se la crypto continua a salire ciao e chi si è visto si è visto non ci ritorniamo più su perdiamo un'occasione allora questo è un treno le fondamentali ci sono ancora secondo me c'è possibilità di salire tra le altre cose abbiamo visto che questo rialzo è avvenuto senza l'aiuto di bitcoin perché il mercato crypto in questo momento è in stasi in quanto la market cap non sta salendo quindi BTC sta lateralizzando insieme ai TH anzi è sceso sta avendo anche delle serie difficoltà da certi punti di vista quindi questa è una redistribuzione dei soldi presenti in altre coin verso CRO se dovesse ripartire invece un boom anche dei mercati come noi un po' ci aspettiamo magari proprio boom boom no ma comunque un nuovo trend a rialzo con la presenza di nuovi cicli CRO potrebbe continuare a vivere anche di vita riflessa a quel punto anche delle altre crypto quindi io direi trader seguite con trailing stop studiate come si fanno queste cose perché un trend del genere vi cambia la vita se siete ben capitalizzati e vedete bene com'è importante la formazione in queste situazioni perché passano due occasioni all'anno e dite ciao ciao a tanti problemini va bene investitori invece gli investitori che ragionano a medio lungo periodo non c'è niente da fare questa è una crypto che al momento ha iniziato il suo progetto DeFi con lo sviluppo della sua piattaforma dovremo vedere che succederà l'unico problema per gli investitori in CRO potrebbe essere l'avvento di un mercato orso se i mercati gireranno verso un mercato orso nei prossimi mesi sicuramente crypto che hanno corso molto magari nell'anno ne soffriranno e probabilmente anche parecchio quindi fin tanto che bitcoin non darà segnali secondo me di inversione di trend di medio lungo periodo io direi che per gli investitori non c'è niente da fare siccome io sono investitore di crypto.com e non faccio trading su questa crypto bensì sono entrato ai miei scaglioni tra l'altro qualcuno di voi si ricorda anche il mio tutorial sulla DeFi wallet quando ho messo in earn quei quei crypto quel quei CRO che tra l'altro se non erro saranno quadruplicati in questo momento poi c'è quelli per la carta quelli per l'exchange di solito non ne ho accumulati tantissimi ma sono sufficienti diciamo per un tipo di volatilità di questa di questa crypto io esattamente quello che farò è niente cioè in pratica aspetto un'eventuale inversione di BTC o un cambio trend di natura epocale diciamo così quindi medio lungo periodo per poi fare quelle che sono eventualmente delle protezioni delle operazioni di protezione bene siamo arrivati alla fine oh mio dio ho fatto un video sarà lungo però ragazzi c'hanno tante cose da dirvi vi ricordo la super promo per quanto riguarda il break friday di trending on ragazzi dura fino al 29 affrettatevi per questa cosa ci rivediamo nel prossimo video e vedremo che cosa succederà a bitcoin quando ti svegli difficile questa chiusura del ciclo mensile ma buone prospettive perché si è verificato esattamente quello che vi ho detto lunedì vediamo che cosa succede nei prossimi giorni incrociamo le dita ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti